Buongiorno e bentornati sul canale di Lasciati Viaggiare. Sono qui oggi per darvi informazioni importanti per chi si trova all'estero e deve rientrare in Italia con qualunque mezzo di trasporto come aereo, nave, treno, auto, bus e ovviamente anche per chi deve viaggiare all'estero prossimamente. Mi raccomando per restare informati sui viaggi iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella. In questi giorni è entrato in vigore l'obbligo per chi entra in Italia di compilare l'EU Digital Passenger Located Form o DPLF. Attualmente l'Italia è il primo paese a richiederlo ma verrà esteso a tutti i paesi membri della comunità europea. Guardiamo nel dettaglio di cosa si tratta. Prima di tutto bisogna collegarsi al sito internet app euplf.eu. Una volta entrati questa è la schermata che troverete e dovrete registrarvi. Dovrete accettare le condizioni di privacy e veridicità delle condizioni. A questo punto sarete arrivati al form vero e proprio. Inserite tutte le informazioni richieste. Preparatevi ad avere pazienza perché ci saranno 11 pagine di informazioni da compilare. Dovrete partire dalla destinazione da cui rientrate per poi passare al tipo di trasporto. Vi chiederanno informazioni personali, i documenti di identità, informazioni sul viaggio, se avete fatto delle tappe in altri paesi e via discorrendo fino alla dichiarazione finale. Una volta completata la registrazione il passeggero riceverà all'indirizzo email indicato nel DPLF in formato pdf e QR code che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone in formato digitale. In alternativa potrà stampare una copia del DPLF da mostrare. Attenzione, la compilazione del modulo digitale sostituisce l'autodichiarazione in vigore precedentemente. Vi ricordo inoltre che ad oggi 12 giugno per rientrare in Italia è necessario avere il certificato di un tampone molecolare o antigenico o anche detto veloce effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso nel nostro paese. Per chi viaggia con i maggiori tour operatori italiani e soggiorna in villaggio è previsto il tampone direttamente all'interno del villaggio turistico prima della partenza. Attenzione, è sempre bene verificare che questo sia valido per la struttura in cui alloggerete. Per tutti gli altri tipi di viaggio bisogna informarsi anticipatamente per poter effettuare il tampone prima del rientro. Il test è obbligatorio anche per coloro che hanno già effettuato il vaccino. In caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Per oggi è tutto, spero che i miei consigli possano esservi stati di aiuto e ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao ciao viaggiatori!